buongiorno amici di fano tv bentrovati alla rassegna stampa abbiamo le notizie del giorno pronte sulla scrivania questa mattina tratte dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino ma come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi mercoledì 15 marzo 2023 si festeggia Santa Luisa de Mariac visse nel XVII secolo nella sua vita decisive furono due incontri importanti con due santi con San Francesco di Sales e San Vincenzo de Paoli che la indussero una volta rimasta vedova a fondare la congregazione delle figlie della carità per l'assistenza ai poveri e soprattutto agli ammalati Luisa è stata beatificata nel marzo del 1934 da Papa Pio XI e da allora appunto è posta agli onori degli altari. Oggi il tempo si mantiene molto molto nuvoloso con piogge questa mattina pioveva a dirotto sulla città di Fano tempo a tratti comunque instabile con nubi irregolari associate a qualche rovescio nubi nere su tutta la regione Marche nella grafica pubblicata dal Corriere Adriatico. Ci sarà anche la neve ad un'altezza superiore ai 1.100 metri comunque tutto questo dovrebbe placarsi in serata dovrebbe almeno il cielo rasserenarsi i venti sulle coste spireranno da nord mentre dall'interno da nord nord ovest il sole è sorto alle 6.20 questa mattina e tramonterà alle 18.12 nel tardo pomeriggio. Apriamo oggi per primo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ma vediamo che le aperture sono le stesse del resto del Carlino si parla ancora della Basilica di Vitruvio di questa fantomatica basilica un grande monumento dell'antichità che ha reso noto anche l'antica fanum fortune a livello internazionale. Ebbene ieri la novità è stata la visita della soprintendente Cecilia Carlo Rosi che è appunto la massima autorità per quanto riguarda le antichità nelle province di Ancona e Pesaro e ci sono state delle dichiarazioni importanti ora si cerca di quagliare concretamente pragmaticamente il procedere delle ricerche occorrono soldi. Occorrono soldi e vediamo che il resto del Carlino ci dice che occorrono 50.000 euro da parte del Ministero. La Basilica di Vitruvio 50.000 euro è la cifra che la soprintendenza ha chiesto al Ministero della Cultura per ampliare gli scavi di Invia Vitruvio dove sono emersi i resti di un importante edificio pubblico e nemmeno la soprintendenza ovviamente ancora si pronuncia sulla esatta natura di questo edificio che è tornato alla luce. Si pensa, si suppone, si ipotizza che sia la Basilica di Vitruvio ma ovviamente occorrono le prove e quindi queste possono venire soltanto dalla estensione degli scavi e questa estensione insomma si attende in maniera proprio così con emozione perché insomma la posta in gioco è particolarmente importante. Ci sono anche altre dichiarazioni oggi sul resto del Carlino. La capogruppo regionale dei Cinque Stelle Marta Ruggeri ha rivolto un appello sia alle istituzioni regionali sia al mecenatismo dei privati per avere le risorse necessarie a proseguire le indagini archeologiche e ieri in via Vitruvio insieme alle istituzioni c'erano anche gli archeologi che materialmente con fatica fisica, con la pala e quindi con anche uno sforzo veramente muscoloso tirano fuori metri cubi di terra perché poi gli scavi questo servono insomma a scavare. Dall'esito degli ulteriori scavi dipende la sorte dell'area di via Vitruvio di proprietà dell'imprenditore Paolo Antonioni a cui la soprintendenza ha riconosciuto una grande disponibilità a collaborare con le istituzioni. Grazie a Paolo Antonioni dunque anche questa ricerca ha potuto estendersi, ha potuto appunto risolversi. Vediamo anche le altre notizie sul Corriere Adriatico. In questo caso abbiamo delle dichiarazioni di Oscar May che è il coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani di Fano ma è anche insegnante di archeologia all'Università di Urmino, l'erede del grande Mario Luni. Ebbene anche lui ovviamente non si pronuncia sulla natura esatta dei reperti che sono tornati alla luce ma fa un'osservazione interessante. Dice bisogna scavare anche in via Vitruvio perché quella potrebbe essere il confine della platea magna ovvero del foro romano che avrebbe dovuto estendersi sotto la chiesa di San Domenico fino alla memo, fino a quella area ipogea sotto la memoteca Montanari che purtroppo non è sempre visitabile e questo è un problema che dovrà risolversi nel proseguo perché è inutile così fomentare gli entusiasmi per il ritrovamento dell'affano romana quando poi buona parte dell'affano romana rimane difficilmente visitabile, difficilmente fruibile. Ne è una prova il teatro romano a cui dedicato questo articolo a fondopagina del Corriere Adriatico. Teatro romano, recuperiamo il tempo perduto. Del teatro romano si è parlato anche nell'ultima seduta del Consiglio comunale grazie ad una interrogazione che è stata presentata dal consigliere Stefano Marcheggiani. Un consigliere espressamente delegato dal sindaco di occuparsi del teatro romano ma sembra che le vicende si siano evolute al di fuori di lui. Ecco perché lui ha fatto questa interpellanza. In questo senso, dato che c'è stata una lunga pausa, non si sa più niente di quello che accade al teatro romano. Ma allora, l'amministrazione comunale ha veramente intenzione di procedere per rendere visitabile il teatro durante la prossima estate? Punto interrogativo. Ebbene, a questa domanda ha risposto l'assessore alla cultura Cora Fattori che è nuova nel suo incarico e non appena ha avuto la delega ha cominciato a riannodare le fila di questo procedimento burocratico ed ora è in ballo una determina che dovrebbe essere approvata e che ha subito ritardi prima per il terremoto, poi per l'intasamento degli uffici a causa dell'enorme cumulo di progetti derivanti dal PNRR. Ora, piano piano si cerca appunto di risolvere la questione almeno organizzando le visite per la prossima estate all'esterno del stabile della Filanda stabile che dovrà essere completamente ristrutturato. Ma lì servono altri soldi che al momento l'amministrazione comunale non ha. Cambiamo argomento e parliamo non tanto. L'argomento rimane presso a poco sempre quello, ovvero dell'assetto urbanistico della città che deve fare i conti con il sottosuolo romano. PRG da approvare ad aprile, ci saranno le varianti verdi. Gli impegni del vice sindaco Fanesi, le volumetrie in eccesso, saranno eliminate. Ebbene, le varianti verdi, cosa sono le varianti verdi? Sono quelle varianti che declassano le aree di carattere residenziale perché i proprietari non sono più in grado di pagare l'Imu né di costruire sopra queste aree. E quindi le vogliono riportare allo Stato agricolo, allo Stato verde, insomma. Però questo cosa fa? Questo procura un danno al bilancio del Comune perché priva il bilancio stesso delle entrate dell'Imu di queste aree verdi. Però, insomma, è una questione che il Comune deve risolvere. E anche l'altro giorno in Consiglio Comunale era apparsa questa variante che poi deve essere ben definita. Gli impegni del vice sindaco Fanesi, le volumetrie in eccesso, saranno eliminate. Sembra proprio che siamo ormai nel traguardo e in arrivo per quanto riguarda il piano regolatore generale. Dunque, vediamo un po' cosa dice l'articolo, quella è finalmente una prima data certa sul PRG. Ecco appunto, così annuncia Fanesi. E' quella di domani, quando lo strumento destinato a disciplinare il futuro sviluppo della città fresco di consegna della società incaricata, la mate finalmente è arrivato, arriverà sul tavolo della Giunta. A fissarla il vice sindaco assessore d'urbanistica Fanesi, che in Consiglio Comunale ha anche illustrato i passaggi immediatamente successivi con la trasmissione alla conferenza dei servizi e alla Commissione Urbanistica del piano regolatore. E da tanto i componenti della Commissione Urbanistica attendono questa bozza di piano regolatore che purtroppo è tardata non poco a essere definita. E poi abbiamo una precisazione sul Corriere Adriatico di quella tragedia che è avvenuta nel reparto di ostetricia dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove purtroppo durante un parto è morto un bambino. Neonato morto per causa naturale. E' considerata una morte naturale, quella del bimbo deceduto durante il parto, dieci giorni fa nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Croce, dove l'equipe medica del dottor Claudio Ciccoli si è prodigata per salvarlo. Il riscontro diagnostico è stato disposto dall'autorità sanitaria ed è stato eseguito sul Corpicino il giorno dopo il decesso. Il piccolo era figlio di una giovane coppia di Acqualagna che ha comunque riconosciuto che i medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolino. Purtroppo però questa è stata una storia a brutto fine con grande grande emozione sia da parte dei medici che ovviamente da parte di tutta la famiglia del bimbo. Cambiamo notizia, passiamo al bilancio della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Un bilancio veramente eccezionale per quanto riguarda le difficoltà che hanno attraversato la gestione del credito in questi ultimi tempi. Alla BCC utili quasi triplicati si è tornati ai dati pre-Covid. L'Istituto di Credito Cooperativo di Fano si rafforza, aumentati i clienti e anche i soci. L'utile è quasi triplicato e di nuovo ai livelli pre-pandemia. E' questo comunque il dato di maggior rilevanza del bilancio 2022 della Banca di Credito Cooperativo diretta appunto dal Direttore Generale Falcioni. Ebbene alcuni dati con 5,9 milioni si riavvicina di utile, si riavvicina il dato ai 6,5 dell'esercizio 2020, quando gli effetti del dilagare del Covid si erano poi pesantemente avvertiti l'anno successivo, quando l'utile era sceso a 2,1 milioni di euro. Comunque nel segno della stabilità e dunque letti dei vertici dell'Istituto come rappresentativi di una banca in salute, anche gli altri indicatori a partire dal patrimonio che continua ad attestarsi sopra i 105 milioni di euro sono veramente significativi e tutti tutti positivi, oltremoto positivi. Passiamo a terre roveresche. A terre roveresche c'è una stretta in comune perché il comune non ha pagato alcune bollette e per questo d'ora in avanti dovrà trattenere una cifra, 180 mila euro, senza spenderli per coprire eventuali inadempienze. Si tratta di una penalizzazione per fatture non pagate entro 30 giorni per una somma totale di 530 mila euro, come risulta dalla delibera approvata dalla Giunta e pubblicata sul sito del comune e quindi questa ovviamente è una notizia che viene fuori dall'opposizione che evidenzia un dissesto per quanto il dissesto che poi è rimediato con questa garanzia che viene offerta dalla cifra che viene accantonata. A Pergola si parla di turismo e si parla di risorse. Accoglienza, culture e feste, il programma della Proloco. Le giornate FAI, poi chiese e palazzi aperti e il progetto Viaggiatore a Pergola. Diamo un'occhiata alle iniziative della Proloco di Pergola che ovviamente perseguono l'obiettivo di valorizzare questo bellissimo centro incastonato tra le prime propaggine apenniniche del nostro territorio, del nostro centro Italia, un sito archeologico importante ma anche bello dal punto di vista ambientale. Ebbene, gli appuntamenti. Gli appuntamenti iniziano con le giornate FAI del 25 e 26 marzo, poi torneranno le giornate di chiese e palazzi aperti, ben sei questa volta, durante le quali sarà possibile ammirare alcuni luoghi più affascinanti di Pergola accompagnati dalle guide turistiche del luogo, grazie appunto al progetto Viaggiatore a Pergola. Ci saranno i volontari che nei prefestivi e nei festivi accompagneranno i turisti in un tour dei principali siti di interesse culturale e artistico del centro storico. Poi per le festività pasquali in programma c'è un appuntamento che è diventato ormai fisso ed è il Raduno Camper. Raduno Camper che si terrà dal 7 al 10 aprile prossimo. Tra le novità ci sarà l'estemporanea d'arte, il particolare del 27 maggio e poi l'estate sarà caratterizzata dalla notte romantica e dalle serate di artigianato urbano con tanti di vari artigiani che si esibiranno e poi ci sarà anche una bella iniziativa che attrae molti molti turisti, è la 51esima festa del vino, il vino in festa Pergola Doc. Insomma chi vuole assaggiare del buon vino può andare, ma la bere moderatamente, può andare a Pergola ma per la prossima estate, quindi c'è tempo, ne riparleremo. Passiamo a Senigallia. Arrivano i turisti sfrattati i morosi dove negli appartamenti estivi ovviamente si affitta per l'inverno ma fino a un certo punto, quando arriva l'estate, ebbene bisogna sgomberare perché quegli appartamenti spettano ai turisti i quali pagano un canone d'affitto ben superiore rispetto a quelli che soggiornano durante l'inverno. D'estate purtroppo molti restano senza casa. L'allarme di Giovanelli, di Giovanni Giovanelli della CIS, sono tante le segnalazioni di affittuari allontanati in estremis. Inquilini messi alla porta con l'arrivo dei turisti e per i morosi il ben servito è reso più facile dal fatto che non sono costanti i pagamenti, quindi più facile farli sloggiare, mandarli via. E poi vediamo come si insiste per dedicare a Monachesi, all'ex assessore Monachesi, deceduto in questi giorni l'ex pescheria. L'appello adesso di Mangialardi, consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Senigallia. L'appello di Mangialardi, Enzo Monachesi è stato il protagonista della rigenerazione urbana ed appoggia l'invito della famiglia di dedicare a lui, di intestare appunto la pescheria del foro. Sarebbe una bella iniziativa. Passiamo ora alla pagina di Pesaro dove parliamo delle concessioni balneari. Ebbè, forse è ancora un po' prematuro, ma gli operatori si attivano per tempo. Stessa spiaggia è lettino, ma con la prenotazione arriva il ritocco dei prezzi. Ebbene, qualche euro in più bisognerà pagarlo per andare al mare la prossima estate. Le tariffe aggiornate per l'estate prossima evidenziano un ritocco già visibile tra il 5 e il 10%. C'è chi prima affittava a 650 euro un ombrellone e due lettini e oggi propone 700 euro. Altri che mantengono gli stessi prezzi, ma però valutano ritocchi alle tariffe, magari per la sosta auto, se gestiscono il parcheggio, oppure per i servizi del chiosco bar. E chi ancora aumenta i prezzi nel caso dell'ombrellone allargato a più famiglie. Insomma, ci sono diversi modi per cercare di racimolare qualche euro in più. E poi, su tutto questo, cosa incombe? Incombe la direttiva Volkestein, a cui nemmeno il governo attuale, che aveva promesso in fase elettorale di risolvere questo problema a favore degli operatori balneari, riuscirà a risolverlo, perché veramente la prerogativa imposta dall'Unione Europea è stringente e vincolante. E intanto occorre anche ripascere le spiagge. A Sottomonte non c'è sabbia e non si è visto mai nessuno. I bagnini alle prese con l'emergenza appunto di ripristinare quella sabbia, il ripristinare quella spiaggia che l'erosione marina ha portato via, ha penalizzato, quindi ha ridotto in estensione. La Cittadella del Basket. Parliamo della Cittadella del Basket che avrà 100 posteggi. Il Comune ha approvato il piano finale, nascerà accanto all'impianto Facchini. Qui nascerà una nuova palestra, un nuovo blocco servizi e spogliatoi. Circa 100 posti auto, tra spazi recuperati e creati, a servizio dell'intera area sportiva di Villa San Martino. Prende così forma la Cittadella del Basket che oggi aggiunge nuovo tassello dopo l'approvazione ingiunta del progetto esecutivo. Lo hanno dichiarato l'assessore Riccardo Pozzi e l'assessore Mila della Dora, assessore alla rapidità. C'è a Pesaro un assessore anche alla rapidità per accelerare gli iter burocratici dei procedimenti e ci vorrebbe un po' anche dappertutto perché veramente si prolungano assai in altre parti. E vediamo ora i problemi degli ambulanti del mercato delle erbe dietro piazza del popolo. Largo Mamiani non fa troppo alte le spese dietro fronte per il mercato delle erbe. Gli ambulanti chiedono una soluzione più economica. La somma che viene richiesta a tutti globalmente è di 40.000 euro all'anno. 20.000 euro poi è stata ridotta perché c'è stato anche un impegno del comune ma anche questi 20.000 euro sono considerati troppo cari agli ambulanti i quali chiedono di andare da un'altra parte dove pagano poco perché fino adesso dove si trovano hanno pagato una cifra solo simbolica e quindi tutto da rifare per gli ambulanti che devono essere spostati perché sappiamo come nel chiostro della chiesa di San Domenico adibita a mercato delle erbe è tutto da rifare, è tutto da ristrutturare insomma è tutto da riqualificare diciamo meglio. Intanto in Duomo si sono svolti i funerali di Pierpaolo Panzieri la vittima di un ferrato omicidio compiuto da un suo amico. L'addio a Pierpaolo sabato in Duomo venga anche chi non lo conosce. La scelta dei familiari del giovane ucciso a coltellate per una cerimonia partecipata è aperta a tutti. Domani intanto è atteso il rientro in Italia dalla Romania di Michael Alessandrini reo confesso di questo omicidio. Vediamo ora anche la pagina di Urbino dove si parla di oncologia e dell'attività di un gruppo di cittadini che fa del bene all'ospedale ma soprattutto fa del bene alle pazienti che ci sono in ospedale. Ebbene ha donato otto televisori e si tratta delle donne delle contrade iniziative per favorire l'adegenza dei pazienti. Il primario commenta un volontariato prezioso. Ebbene diciamo bene che cosa è accaduto. Le donne dell'associazione Le Contrade di Urbino, questo è il nome dell'associazione, ancora una volta sono vicine ai pazienti di carattere oncologico. Dopo le cuffie refrigeranti, e l'attivazione del progetto Pink Room dedicato a trattamenti estetici gratuiti alle donne che purtroppo sono affette da una malattia molto brutta, ora hanno regalato al reparto di oncologia dell'ospedale di Urbino otto televisori per rendere meno disagevole l'adegenza ospedaliera di queste pazienti. Quindi veramente una bella iniziativa. Ed ora chiudiamo il guerriere adriatico, passiamo al resto del Carlino, dove vediamo qui nella seconda pagina due belle iniziative. Una, il ricordo di Filippo Montesi. Sono 40 anni dalla morte di questo Marò che è morto per le ferite riportate in Libano durante una missione di pace del suo battaglione. Allora c'era il servizio di leva e Filippo Montesi si era arruolato come era di dovere allora per i giovani. Che cosa è accaduto? È accaduto purtroppo la tragedia. Ebbene il 22 marzo ci saranno tutta una serie di iniziative per il ricordo di questo sacrificio. E poi nel secondo articolo, in a fondo pagina, abbiamo le iniziative della Fondazione che ha fomentato, che ha dato contributi a diverse associazioni di volontariato per aiutare i più deboli, sia per quanto riguarda l'emergenza abitativa che per quanto riguarda un contributo alimentare per coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.